Siamo emozionatissimi e magari volevo solo dire fare un'ultima parentesi su di sana pianta e sul fatto che appunto l'ideazione è di quattro artisti sul territorio vicentino quindi lo sguardo che portiamo non è accademico ma è proprio l'intento anche di ribaltare un po' qual è diciamo la visione normale del mondo insomma provare a non guardarlo sempre da occhi umani ecco. Oggi c'era un po' un intento di attivare una conversazione quindi c'è una pluralità di voci che che si è messa in gioco sono dei rappresentanti di varie realtà sul territorio vicentino impegnate nell'ambito dell'ecologia e in molteplici aspetti poi loro si rappresenteranno meglio e quindi insomma c'era la volontà di a partire dal testo che Selva insomma scritto generare delle riflessioni condividerle generare ancora nuove domande ma proprio con anche con una forma di di ingenuità possiamo dirlo non non essendo esperti no della materia quindi siamo proprio neofiti siamo arrivati a questo testo ci siamo detti ma quale parte anche ci emoziona quale parte ci dice quale parte ritroviamo nel nostro quotidiano e nel nostro attivismo e però è una conversazione che vorremmo condividere quindi sperando che possa anche qualcun altro prendere parola e insomma non chiuderla in questo cerchio da questa parte quindi passo un faccio solo così si presentano allora pierangelo miola del laboratorio spazi rurali boschi urbani dopo spiegheremo meglio cos'è salve a tutti a tutte io sono margherita ferrari parlo a nome della comunità vicentina per l'agroecologia io sono mariangela faccio parte del caracol che è la struttura l'associazione che sta ospitando questo questo incontro e quindi a nome di tutti do il benvenuto appunto al a questo presentazione a questo progetto di oggi di sana pianta anna e però la lascio direttamente a te così ti presenti tu e comincia a dirci come mai ti è interessato così tanto questa persona questo ricercatore ecco ciao a tutte e tutti grazie sono molto contenta di essere qui in questo posto ci tenevo tanto a vederlo già dovevo venire un paio di anni fa no di più forse poi covid aveva bloccato tutto poi ci sono state una serie di vicende quindi sono molto contenta di essere finalmente qui di aver visto questo posto vi ringrazio sono molto contenta di di non dover presentare il mio libro da sola cosa che di solito mi succede ma di essere così in compagnia che un'esperienza che un po nuova per me nel senso tutto questo lavoro intorno al mio libro mi fa piacere come mi emoziona un po e io allora questo libro nasce in realtà già da un po di anni e come mia tesi di laurea per cui passiamo parliamo di un po di anni fa era la mia tesi di laurea in filosofia e dopo di che appunto ci ho lavorato ancora è diventato un libro questa è la sua seconda veste la prima edizione aveva una era più grande aveva un'altra copertina ma la casa editrice la stessa e è stato un po rivisto chiaramente quella seconda edizione ed è un testo che sta girando ormai già da un po di anni appunto e mi fa piacere perché riesce sempre a a suscitare interesse a suscitare domande insomma evidentemente tocca dei punti che sono attualissimi ancora oggi cosa che io credo molto quindi in realtà perché è nato è nato perché dovevo fare una tesi fondamentalmente quindi dovevo farla e perché era chiaramente un pensiero un autore che mi interessava molto quando ho iniziato a lavorarci allora stiamo parlando di marra e buccina appunto è morto nel 2006 e sono proprio gli anni in cui ho iniziato a lavorarci in modo serio per cui non ho avuto modo di conoscerlo ma erano gli anni anche in cui il suo pensiero era un po andato a cadere nel senso che marra e buccina iniziato a occuparsi di ecologia negli anni 50 e possiamo dire che è stato uno dei precursori insomma dell'ecologia è stato tra i primi insieme nello stesso anno della rachel carson della primavera silenziosa che forse qualcuno di voi conosce questo testo molto importante nello stesso anno anche lui ha pubblicato un altro testo sugli additivi chimici nei cibi molto importante anche questo quindi insomma dagli anni cinquanta che si è occupato di ecologia e ha avuto un momento in cui il suo pensiero era piuttosto conosciuto e calcoliamo che lui è uno statunitense ma i suoi testi sono stati tradotti in una ventina di lingue per cui è molto conosciuto in italiano sono usciti diversi sui testi uno è uscito proprio recentemente tre mesi fa per la casa editrice leutera è l'ultimo testo che è stato tradotto suo perché ce ne sono alcuni ancora non tradotti ma possiamo dire che ha avuto sempre una diffusione un po ristretta un po perché sono tutte case editrici quelle che hanno pubblicato abbastanza piccole al di là degli anni settanta che la feltrinelli aveva tradotto i limiti della città stato forse il testo che è un po circolato di più suo gli altri sono tutti testi che hanno tirature abbastanza ridotte ecco per cui forse anche per questo non ha poi raggiunto mai grande pubblico e adesso negli ultimi anni c'è un interesse rinnovato nei suoi confronti perché è stato citato ampiamente da ucci alana nei suoi ultimi testi perché il confederalismo democratico in kurdistan si richiama molto a quelle che sono le teorie di buccine e quindi questo ha chiaramente suscitato un interesse maggiore nei suoi confronti non so vi inizio a raccontare cosa diceva volete sì ma noi abbiamo abbiamo una però se tu vuoi no ok va bene in caso in caso in caso in realtà noi abbiamo una trovato una formuletta diciamo dove ognuno porterà un piccolo estratto del libro leggendolo e condividerà la riflessione che da lì ne è scaturita e fondamentalmente la domanda quindi lasceremo poi continuare te e allargati pure e quindi lascia la parola a te margherita bene dico proprio due parole sul perché ho scelto questo questo passaggio specifico appunto io faccio parte della comunità vicentina per l'agroecologia e l'agroecologia di per sé è un ambito che io trovo che sia molto molto intersezionale molto attento a guardare a tante lotte diciamo in sovrapposizione e a trovare i punti i punti comuni sui quali focalizzarsi anche se siano dei background diversi sempre ovviamente ragionando di agricoltura di ecologia eccetera quindi cioè quando mi è mi è arrivato il libro io premento che non conoscevo minimamente l'autore mi è caduto subito l'occhio sul capitolo il capitoletto sull'ecofeminismo ecco quindi volevo leggere giusto un breve passaggio allora bucci ne riconosce grande importanza al movimento femminista da lui ritenuto indispensabile per la creazione di una nuova società e qua c'è un virgolettato poi dell'autore il nuovo movimento delle donne ancor più ancor più della contro cultura della crociata per la tecnologia appropriata e del movimento antinucleare mira il cuore della dominazione gerarchica che alimenta la nostra crisi ecologica il movimento ecologico potrà realizzare tutta la sua ricca e multiforme potenzialità di trasformazione della società anti ecologica e dei suoi valori solo se la contro cultura il movimento per la tecnologia alternativa il movimento antinucleare si fonderanno sulla sensibilità e sulle strutture non gerarchiche che risultano soprattutto evidenti nelle tendenze veramente rivoluzionarie del femminismo bucci non concorda però con un'affermazione molto diffusa nell'ecofeminismo in base alla quale l'oppressione delle donne è l'origine di tutte le gerarchie ecco io qua avevo proprio la curiosità in generale di chiederti quali quali erano i rapporti che bucci aveva con le teoriche femministe sue contemporanee quindi come come si relazionava e poi nello specifico leggendo un po' questo passaggio avevo la curiosità di capire se questo richiamo proprio al guardare ai movimenti femministi era basato più su un diciamo un trarre quasi degli spunti di metodo spunti relativi all'approccio analitico o più diciamo una sorta di anticipazione quasi appunto degli approcci intersezionali che sono più recenti proprio nell'ottica di individuare delle lotte comuni e cooperare nell'ottica di ragionare intorno al disastro ecologico ecco ecco questo grazie grazie perché questa domanda tra l'altro mi dà l'occasione per iniziare un po spiegare quello che anche l'ecologia sociale che il pensiero insomma teorizzato da mara e bucci e che è un pensiero che in realtà continua a viaggiare continua a essere elaborato rielaborato e via dicendo e la tesi fondamentale su cui si basa tutta la riflessione di bucci e dell'ecologia sociale in generale e la connessione appunto tra la questione ecologica e la questione sociale è il punto centrale della sua riflessione ovvero appunto dicevo già dagli anni 50 bucci denuncia quella che è una crisi ecologica che all'epoca vedeva avvicinarsi e che oggi credo che tutti quanti noi tutte quante noi sentiamo molto sulla pelle ecco però appunto non si limitava a una denuncia della situazione ma ha sempre cercato di capire quelle che secondo lui fossero le cause della situazione attuale quali che fossero le origini così anche da provare a proporre delle soluzioni anche pratiche ecco e lui individuava l'origine della della crisi ecologica l'origine del disastro ambientale e in precise organizzazioni sociali in una precisa struttura sociale secondo bucci in appunto la relazione tra esseri umani e mondo naturale è una relazione basata sullo sfruttamento basata sulla gerarchia e sullo sfruttamento dei corpi degli esseri umani e difformi piuttosto che sul sfruttamento degli esseri viventi non umani o proprio sul mondo naturale ecco lui ritiene che questa logica di dominio di sfruttamento di oppressione e discenda direttamente dalla struttura sociale in cui siamo immersi che è una struttura sociale gerarchica di dominio di sfruttamento di oppressione per cui a suo parere non è possibile pensare di affrontare la crisi ecologica senza affrontare anche nello stesso momento la crisi sociale in questo senso l'approccio ecofeminista ha dei punti di contatto forti con la sua riflessione e non nasce insieme chiaramente perché il pensiero di bucci in appunto parte dagli anni 50 l'ecofeminismo si sviluppa dagli anni 70 per altre sue strade altri suoi percorsi ma sicuramente vi è in questo dei punti di contatto forte vi sono anche degli scambi forti bucci ne è stato per tanti anni con una compagna ecofeminista che si chiamava janet bill e poi dopo insomma si sono separati con la loro storia ma e quindi chiaramente questo ha favorito anche uno scambio in questo senso e sull'anticipazione dell'intersezionalità sicuramente sì perché appunto la necessità di affrontare questione ecologica e questione sociale allo stesso tempo implica l'affrontare la questione sociale in senso ampio quindi implica l'affrontare tutte le gerarchie bucci ci tiene molto a sottolineare come vi siano tanti tipi di gerarchie nella società in questo senso forse si può interpretare quel passaggio in cui dice non concordo sullo stabilire che è stata solo la gerarchia patriarcale ma riconosce l'importanza dell'instaurarsi della gerarchia patriarcale come della gerarchia economica come della gerarchia sociale lui parla di tutte le gerarchie che si creano nella società umana a partire dal patriarcato in realtà scrive per cui c'è sicuramente un punto forte anche con la riflessione di Federici con la riflessione delle ecofeministe però sono due percorsi chiaramente autonomi e indipendenti che però sicuramente si possono intersecare e si sono intersecati ecco e niente appunto quindi questa necessità di rompere con tutti i tipi di gerarchia che fanno sì che in pratica la questione fondamentale che secondo lui vi è alla base una stessa logica di dominio lui parla proprio di logica di dominio e di retaggio gerarchico che è presente nelle società a suo parere appunto con lo sviluppo del sistema patriarcale e lo sviluppo del sistema capitalistico e che fanno sì che il nostro modo di relazionarci col mondo naturale sia necessariamente una relazione di sfruttamento di oppressione di controllo e via dicendo quindi per risolvere questa situazione chiamiamola così è necessario appunto rompere con le varie gerarchie per cui lui fa un discorso di rottura con chiaramente con la struttura patriarcale di cui oggi abbiamo visto l'ennesimo frutto purtroppo di rompere con la struttura capitalistica economica in cui ci troviamo di rompere con le gerarchie interne ovvero col dualismo ad esempio a cui siamo abituati a ragionare noi siamo sempre lui dice abituati a pensare a qualcosa che vale di più qualcosa che vale di meno a vedere la differenza sempre in un'ottica gerarchica in un'ottica di sfruttamento in un'ottica di utilizzo e quindi questo fa sì che noi utilizziamo tutto ciò che abbiamo intorno e un cambiamento quindi di mentalità e un cambiamento anche proprio sociale strutturale economico poi penso che su questo ci torniamo ti inserisci bene adesso? entro sul pezzo innanzitutto due parole anche sulla struttura che ci accoglie perché è proprio centrale anche tutto quello che fa il caracol nel suo essere nella sua essenza a livello di cura di quello che è il territorio ci occupiamo appunto sia nella dimensione territoriale quindi con le lotte che portiamo avanti contro il TAV per esempio nelle discussioni infinite sul problema del FAS, delle polveri sottili e poi sempre più nello specifico anche cura della persona quindi con gli ambulatori popolari il banco alimentare cerchiamo insomma a 360 gradi di dare il nostro contributo in un'ottica di condivisione è un nostro motto che ci piace dire ogni tanto appunto è quello che non diamo quello che avanziamo ma cerchiamo di condividere quello che abbiamo quindi la parte nella quale mi sono concentrata è stata proprio quella concentrata sul concetto di mutualismo leggo anch'io un estratto dove Selva parla di questo concetto e qua si dice appunto una società ecologica non deve essere una società libertaria in cui la gente vive in confederazione ed in comunità con gli altri in cui scopo non è il progresso nella competizione nell'egotismo progresso nella dominazione della natura progresso con la dominazione dell'uomo deve essere progresso verso la cooperazione attraverso il mutualismo e il reciproco aiuto nell'armonia noi qua lo vediamo tutti i giorni cerchiamo di portare avanti appunto questo concetto di mutualismo e ci rendiamo conto che appunto collegandomi a quello che dicevi tu adesso anche della dicotomia tra situazione up e situazione down dove qui arrivano persone con un bisogno e quindi si aspettano quasi che ci si si trovi una cura da parte nostra ma è più una condivisione quella che noi vogliamo portare avanti volevo approfondire appunto qua con te adesso il concetto di mutualismo portato avanti da Bucznik quanto è attuabile nella nostra società contemporanea invece così abituata a un discorso di bisogno cura e cosa l'ambiente la natura l'ecologia ci può insegnare in questo allora appunto siccome si parlava della necessità della di un cambiamento sociale e culturale comunitario Bucznik fornisce una serie di strumenti a suo parere utili in questo senso e uno è questo che chiaramente mettevi bene in evidenza te della condivisione del mutuo appoggio allora innanzitutto bisogna dire che la sua visione è chiaramente anticapitalistica nel senso che ritiene che il capitalismo sia anti ecologico per definizione ovvero che a suo parere non è possibile riformarlo non è possibile aspettarsi dal capitalismo soluzioni alla questione ecologico ambientale perché il capitalismo è la struttura comunque sociale in cui siamo ad averle create e quindi su questo è molto netto Bucznik dopodiché fornisce appunto tutta una serie di strumenti per provare a creare una società nuova delle società nuove dico delle perché un altro aspetto fondamentale è il fatto di non voler dare una ricetta precostituita che vale per sempre, per tutti, per chiunque, in qualsiasi contesto ma chiaramente sottolinea come ogni contesto, ogni comunità umana, ogni località debba poi trovare quella che è la strada che gli appartiene per soddisfare i bisogni della comunità che li abitano ecco un discorso sui bisogni è molto importante sulla soddisfazione dei bisogni personali e collettivi per cui partire anche appunto proprio dall'idea del bisogno e del sogno si dicevano per cui questi due aspetti che sono fondamentali per creare una comunità diversa è una comunità diversa che appunto implichi anche un sistema di relazioni diverse in questo senso la condivisione e in questo senso il mutuo appoggio in questo senso lui parla della costruzione di un'economia anche diversa un'economia che chiama morale ovvero un'economia appunto che si basi sul soddisfacimento dei bisogni delle persone ritiene appunto che per creare una comunità ecologica una società ecologica delle società ecologiche si debba appunto partire dai bisogni si debba soddisfare quelli si debba ascoltare le esigenze collettive e per questo motivo ad esempio parla anche della necessità di prendere le decisioni collettivamente non crede nella delega soprattutto nella delega in bianco perché chiaramente innanzitutto istituirebbe di nuovo una gerarchia e in secondo luogo perché a suo parere le persone che sono coinvolte in un processo coinvolte in una decisione sono le prime a dover poter prendere la parola in questo senso e sono le prime che possono davvero sapere quelli che sono i bisogni e come risolverli in questo senso riconosce anche una grande competenza individuale chiaramente c'è una grande fiducia nelle competenze individuali e personali nel credere che insomma che le comunità e che i singoli possano se messi nella condizione di farlo prendere delle decisioni per loro insomma idonee e adatte e il mutuo appoggio e la condivisione è importante perché uso apposta la parola mutuo appoggio innanzitutto perché è un termine che Bookchin prende da questo autore dell'anarchismo classico dell'ottocento che era Peter Kropotkin che ha scritto questo testo fondamentale che si chiamava il mutuo appoggio in cui appunto parte dallo studio delle forme animali delle varie società animali e riconosce in modo anche scientifico per Kropotkin era un grandissimo scienziato riconosciuto a livello internazionale all'epoca riconosce come all'interno del principio evolutivo vi siano in realtà due principi non solo quello che i darwinisti soprattutto i darwinisti sociali hanno voluto porre in evidenza ma fa notare come già Darwin nell'origine dell'uomo parlava in realtà di due principi evolutivi il principio sì della competizione ma anche il principio del mutuo appoggio del mutuo aiuto come altro principio fondamentale evolutivo che però è stato spesso trascurato ma che in realtà ha un grandissimo peso e può avere una grandissima influenza nello sviluppo delle società e quindi il recupero di questo concetto di mutuo appoggio di aiuto reciproco insomma è centrale nella sua riflessione anche perché permette di creare reti di creare quindi delle relazioni diverse delle relazioni orizzontali delle relazioni di scambio per cui non è un discorso ad esempio come credo quello che fate qui non è un discorso di assistenza è un discorso di scambio no? di condivisione, di creazione di relazioni, di esperienze di comunità diverse appunto che si sviluppino col concetto di rete in modo orizzontale non in modo verticale e gerarchico come siamo abituati ecco allora sì anch'io avrò una domanda da fare ci vuole un po' di coraggio a fare anche le domande banali anzi più coraggio ancora a fare quelle intelligenti però ci arrivo dopo ci arrivo attraverso una riflessione un percorsino che comporta anche da parte mia un paio di letture e citazioni dal libro beh io vengo da una realtà questo laboratorio spazi rurali e boschi urbani che è fatta una realtà volontaristica che è fatta da persone innanzitutto tecniche siamo un gruppo piccolo gruppo di tecnici che ci siamo messi a disposizione qualche anno fa per una promozione di determinati valori siamo quasi tutti afferenti all'agronomia forestale paesaggistico ambientale e siamo partiti dalla considerazione che i boschi soprattutto i boschi urbani o periurbani cioè i boschi che sono nella città e vicino alla città potevano avere oltre che un significato ambientale anche un significato sociale e quindi abbiamo cercato di mettere in piedi un percorso di proposta di idee di progetti che cercasse di ricondurre questa questione sociale al fatto di integrare la vita di città con la vita di campagna quindi la città e la campagna restituendo dei valori a questo rapporto e quindi una visione integrata tra campagna e città dietro a questo poi sono venute tante tante progettualità tanti percorsi e quindi avendo a che fare con con ecosistemi alla fine quindi con con ecosistemi che si intrecciano che hanno una vita di relazioni e che e dove l'uomo entra anche pesantemente mi chiedevo quando mi sono imbattuto appunto nel nel libro di di selva che parlava di di gucci ho cercato prima di tutto di trovare un come dire un punto di conforto un punto di unione tra quello che facciamo noi e questa rivoluzione ecologica anche un po' per alto verificarci e ecco un punto di unione quindi un punto di incoraggiamento che ho trovato rispetto a quello che facciamo è questo qui deriva da questa da questo piccolo passaggio e dicevo adesso lo a breve un attimo comunque il tentativo di ugualizzare disuguaglianze inevitabili quindi queste queste tendenze di cui si è già parlato no? di 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 una società di inequità sociale e mutualistica quindi il tentativo di ugualizzare disuguaglianze inevitabili fra le altre cose costituisce il punto di partenza di una società libera alludo qui dice lui non soltanto agli ovvi meccanismi compensativi messi in atto per far fronte a situazioni di malattia o impedimento individuale quindi quello che noi possiamo chiamare assistenzialismo un doveroso assistenzialismo un dovere civile parlo anche di atteggiamenti di un modo di vedere le cose tale da produrre un senso di affetto di responsabilità di seria preoccupazione per gli esseri umani e anche per quelli non umani nella convinzione che le sofferenze i guai le difficoltà di questi e quelli possono essere alleviati o rimossi grazie al nostro intervento quindi qui ci ho visto un concetto che potrebbe essere riassunto con la parola empatia non so se poi è filosoficamente corretto empatia è questo appunto questo senso di di sentire insieme un trasporto e un desiderio di realizzazione dell'altro e di un star bene dell'altro ma è che poi è stato come dire citato anche per gli esseri non umani e questo ci ha fatto ecco ci fa un po' pensare perché se può essere vero che la nostra attività di attivismo ambientale urbanistico sociale sia davvero un veicolo di empatia cioè sia un qualcosa che richiama quindi sentirci dentro a questa rivoluzione ecologica poi poi mi sono chiesto però ecco quali sono invece i dubbi no? quali sono invece le verifiche le controverifiche e effettivamente in un altro passo del libro trovo poi questo lo dice Selva e dice è dunque necessario non limitarsi a riformare l'attuale società ma agire per una profonda e radicale trasformazione sociale e poi ancora Bushkin dice non si può pensare trasformare la società presente un po' alla volta con piccoli cambiamenti per lo più questi piccoli cambiamenti non sono altro che colpi di freno che possono solo sperare di ridurre la folle velocità con cui la biosfera viene distrutta allora questo mi mette un po' in ecco mi mette un po' in dubbio un dubbio contraddittorio anche nel senso di quello che io col mio gruppo con tante altre appartenenze insomma sto cercando stiamo cercando di portare avanti che poi ecco la domanda forse banale quella più semplice che mi viene ma allora se come tanti di noi penso qua dentro e fuori da qua lavoriamo per piccole realizzazioni piccoli passi per situazioni molto puntuali cercando di costruire un po' alla volta le cose non arrivando quasi mai a influenzare le decisioni grandi le decisioni della politica grandi perché siamo pochi perché siamo non ascoltati ecco allora se il nostro lavoro è questo quello di tentare di agire per piccole cose piccoli passi e allora non ci riusciremo mai a fare una trasformazione radicale completa globale della società come vorrebbe appunto questa questa proposta di Bucchi uso questo no non ti scoraggiare nel senso se cercavi l'incoraggiamento secondo me c'è un equivoco ed è un equivoco comprensibile ma è un equivoco nel senso che il discorso di Bucchi è estremamente radicale ma è anche estremamente concreto in alcuni aspetti e c'è una cosa che non vi ho raccontato di lui ad esempio non è solo un teorico perché potrebbe sembraresi il solito filosofo che scrive i suoi libri chiuso nel suo studio no Bucchi era innanzitutto un militante ecologista radicale molto impegnato su singole lotte locali per cui niente su lotte molto concrete su progetti molto concreti per cui evidentemente non era poi così sfiduciato anche sui piccoli passi perché lui in prima persona si è sempre impegnato nella sua vita in varie esperienze e penso a una serie di lotte che ha portato avanti con un gruppo locale contro i reattori nucleari piuttosto che a tante altre esperienze insomma che adesso non vi racconto ma che ha fatto molto concretamente e l'altro aspetto interessante che non c'entra adesso tanto con la domanda ma che ci tenevo a dirvi è che era un'autodidatta nel senso che Bucchi era un operaio metalmeccanico che ha fatto per tanti anni l'operaio tutti mi raccontano che aveva appunto queste mani molto segnate dal lavoro e quindi non era un teorico ecco era anche un teorico ma aveva sempre un grande legame con l'aspetto pratico anzi sosteneva appunto che la teoria senza l'azione poi non valesse niente in questo senso sicuramente non avrebbe mai disprezzato i singoli tentativi locali piuttosto che le varie esperienze che ci portano avanti questo no era chiaramente molto critico nei confronti dei gruppi politici parlamentari soprattutto negli anni 80 ad esempio quando c'era stato un grande entusiasmo per i partiti verdi ecco lui ne capiva l'entusiasmo ma non lo poteva condividere perché riteneva che non potessero poi realmente incidere in modo così profondo a livello politico e sociale perché appunto pensava che all'interno di una struttura così istituzionalizzata come quella attuale è difficile utilizzando i metodi attuali poter cambiare radicalmente una situazione ma non fa anche tutta però un'analisi sull'importanza delle delle pratiche quotidiane delle esperienze personali delle relazioni personali proprio di gruppi e quindi questo ne riconosce l'importanza pensa però che sia necessario fare un discorso anche più ampio ad esempio è molto critico negli anni in cui c'erano ad esempio tantissime comuni tantissime esperienze comunitarie lui ne riconosceva il merito per il tentativo di creare esperienze orizzontali di condivisione ma sottolineava il rischio dell'isolamento ad esempio quindi era molto concentrato sul enfatizzare l'importanza del confederalismo del mettersi in rete anche tra esperienze tra comunità del creare relazioni per evitare di chiudersi di implodere su se stesse o comunque di soffocare in qualche modo in quanto piccole esperienze per cui ad esempio sottolineerebbe l'importanza di mettersi in rete tra le varie esperienze e non concentrarsi magari proprio solo sulla propria cosa che sicuramente non credo che nessuno di noi faccia penso che ognuno di noi poi faccia dei tentativi dei percorsi delle pratiche che non vuol dire non pensare poi a un livello ideale a un livello immaginario anche che possano essere più grandi più radicali ma questo non deve bloccare cioè non deve far sì che allora uno dice no non faccio niente perché non è abbastanza grande non è abbastanza radicale non è abbastanza di cambiamento e di impatto ecco questo no nel senso uno lo deve fare Bookchin sottolineava come in realtà molti altri del pensiero anarchico perché è una cosa altra che non vi ho detto che Bookchin nasce come marxista ma poi si avvicina al pensiero anarchico e rimane bene o male legato al pensiero anarchico per moltissimi anni ecco e condivide la necessità della coerenza tra mezzi e fini ovvero sottolinea continuamente l'importanza di utilizzare mezzi che ci portino a quello che è il fine che vogliamo se vogliamo creare una società orizzontale una società non gerarchica non possiamo pensare di farlo attraverso metodi gerarchici attraverso metodi verticali e questa coerenza tra mezzi e fini la si ritrova continuamente nella sua riflessione ma appunto non è questo suo desiderio di non desiderio questo suo sottolineare la necessità di un cambiamento radicale perché visto come unica soluzione possibile non fa sì che non dia l'importanza alle singole esperienze con le due cose possono convivere purché mantengano una forte coerenza tra mezzi e fini e cerchino di relazionarsi e di aprirsi al mondo di creare relazioni creare reti e non implodere su se stesse non so se in questo ti ho risposto però insomma non è un non deve essere un un bloccare deve essere un invito anzi a coinvolgersi ad agire a prendere parola a mettersi con i propri corpi a creare più possibili relazioni situazioni orizzontali organizzazioni orizzontali intervenire in modo anti-autoritario in modo anti-gerarchico dove è possibile e anche nelle proprio nelle relazioni personali che ognuno di noi ha quotidianamente ma non deve essere un blocco ecco non deve essere non riesco a arrivare al al cambiamento radicale allora non faccio più niente assolutamente no ecco non è questo anzi vorrei aggiungere qualcosa forse sì secondo me sì no diciamo chiaramente dovrei poi sviluppare meglio anche lettura dovrei ritornarsi mi sembrava ecco di come dire di aver visto un prevalere in questa chiamiamola radicalità complessiva ecco della proposta il prevalere della della radicalità per quanto riguarda la chiamiamola così demolizione anche dei sistemi per esempio quelli di rappresentatività politica la delega eccetera quindi se non fai quello per quanto tu faccia sull'altro fronte quello personale quello delle piccole comunità se comunque non demolisci i sistemi portanti delle dell'economia della rappresentatività politica della politica in generale non va a buon fine questa proposta globale quindi mi sembrava di aver colto un prevalere di questo rispetto all'altro aspetto e con quindi con questa impostazione attuale che la società e visti anche i mezzi che abbiamo rapportata tutti noi piccoli o grandi che siamo è una proposta attuabile o no ecco questo era quello che mi ero chiesto in fondo poi mettendo in relazione chiaramente i piccoli passi o le piccole azioni coordinate in rete cercando di che debbano allargarsi che debbano comunque coordinarsi certo però ecco mi sembrava che ci fosse questa soglia un po' un po' che dobbiamo chiederci insomma fino a che punto sia davvero valicabile in questo momento storico di adesso ecco potrei darti due risposte allora la prima è che Bookchin ti direbbe che è ovvio che non può essere un passaggio da qui e là scrive in un certo punto in un suo testo non è un passaggio da qui e là il cambiamento non succede da un momento all'altro ma sarà accompagnato prima e preceduto da un lunghissimo processo educativo lui parla sottolinea molto l'importanza dell'educazione educazione intesa sia delle giovani generazioni delle nuove generazioni ma un'educazione in realtà a qualsiasi età e quindi un lavoro collettivo e personale di cambiamento di mentalità di cambiamento di relazioni e questo è un aspetto importante l'altro aspetto sulla tua abilità sempre se ci fosse qua Bookchin credo che ti risponderebbe poi io avrei la mia risposta ma la sua sarebbe sicuramente che in realtà condivido anche sarebbe non lo so se attuabile ma siamo in una situazione in cui non possiamo più permetterci di continuare a stare non possiamo più permetterci di continuare appunto in questa situazione di disastro ecologico ambientale in cui ci troviamo e quindi la speranza è che la consapevolezza di questa grande crisi possa piano piano sensibilizzare sempre più persone e che quindi questo cambiamento prima o poi sia possibile anche perché c'è questa frase famosa che volevo tenermi per la fine ma me la gioco adesso di Bookchin che dice se non faremo l'impossibile ci troveremo di fronte l'impensabile per cui è consapevole parla di impossibile parla consapevole della difficoltà di questo processo ma è consapevole anche di quello che ci stiamo giocando insomma e quindi della necessità di agire di muoverci e di farlo nel modo più radicale possibile perché non possiamo più permetterci in qualche modo di perdere altro tempo più di quello che già servirà per creare tutto questo altro modo di relazionarsi che non sarà immediato non sarà sicuramente immediato lui parla appunto della necessità di un lungo processo educativo dicevo parla della necessità di sviluppare nuove sensibilità parla dell'importanza ad esempio dell'unità nella diversità ovvero di imparare a cogliere le differenze a cogliere la diversità come ricchezza ed è una riflessione che adesso non vi annoio ma è importante della necessità di superare il dualismo una mentalità dualistica che è il dualismo mente corpo il dualismo io e l'altro il dualismo essere umano natura per cui concepire la natura come qualcosa di fuori da noi di cui noi non facciamo parte quindi tutto un cambiamento chiaramente lungo che però secondo lui bisogna iniziare prima o poi a fare ecco la maggior parte degli estratti sono di questo capitolo 3 che ci è piaciuto particolarmente e anche quelli della sottoscritta mi accorgo adesso che è un purpurì di domande riflessioni però la prima di questi due estratti che volevo leggerle ruota intorno a questo frase la sensibilità la visione del mondo e lo stile di vita svolgono dunque e per un ruolo molto importante nell'ambito del processo rivoluzionario ecco io forse volevo sapere un po' di più su queste tre voci la sensibilità la visione del mondo e lo stile di vita bisogno del mondo cioè ok cioè va bene però eh sì sono delle voci che mi contattano sullo stile di vita ci facciamo un sacco di domande tornare alla legna non lo so cioè però mi piaceva che insomma potessi dipanare un po' ehm sullo stile di vita ci si arragancia un po' al discorso di prima nel senso ehm un aspetto importante della della sua riflessione soprattutto nel suo confronto con con altre correnti del movimento ecologista eh perché chiaramente l'ecologismo no sappiamo è molto vario e diversificato al suo interno e e Bookchin era eh un po' polemico possiamo dire eh nei confronti di chi porta avanti solo scelte individuali personali e quindi solo hm che ragiona solo esclusivamente sul proprio stile di vita personale o quello degli altri nel senso che riconosce chiaramente anche lì l'importanza di ehm di scelte di vita consapevoli di di stili di vita consapevoli ma ehm ehm l'elemento centrale della sua riflessione su cui torna sempre e eh non siamo tutti allo stesso modo responsabili della crisi ecologica in cui ci troviamo eh non possiamo ehm ehm pensare che sia l'essere umano in generale in quanto tale il responsabile della crisi ecologica perché l'essere umano in quanto tale in realtà non esiste l'essere umano ehm è sempre situato si dice oggi nel pensiero femminista e lui lo diceva in qualche modo all'epoca è situato è collocato eh è diverso se è un uomo se è una donna è diverso da dove proviene è diverso in base all'estrazione sociale è diverso in base all'educazione che ha avuto all'età che ha e tutta una serie di variabili per cui non possiamo ehm incolpare l'essere umano in quanto tale della crisi ecologica eh per far questo lui racconta questo episodio eh di questa mostra che ha assistito a cui ha partecipato eh negli anni settanta dove questa grande mostra ecologista dove a un certo punto c'è questo grande specchio dove c'è scritto in grande il l'animale più terribile più temuto sulla terra e ognuno passando di lì si rispecchia e si vede ecco lui su questo era molto critico eh perché ritiene che la crisi ecologica dipenda da delle scelte precise che sono state fatte a livello politico economico eh e quindi eh questo è un aspetto centrale della sua riflessione quindi individuare questo vuol dire riconoscere che sì noi possiamo cambiare il nostro stile individuale ma se non andiamo a toccare quelli che sono i reali responsabili della situazione ecologica non non ce ne muoviamo nel senso io probabilmente posso fare tutte le scelte più attente di questo mondo ma se non vado a intaccare quello che è che sono insomma le le scelte che sono state prese a livello collettivo ma sono state prese a livello collettivo ma non le abbiamo prese poi in realtà noi no? sono scelte che ci sono state o calate o che sono state prese da determinati gruppi sociali possiamo dire ma che non sono chiaramente condivise e condivisibili quindi noi questo ci dobbiamo dice Bucking prestare sempre molta attenzione e quindi chiaramente in questo si vede anche una sua fiducia tutto sommato nell'essere umano se vogliamo ritornare a questo concetto nel genere umano nel senso che ritiene che gli esseri umani potrebbero vivere in modo diverso all'interno della biosfera potrebbero creare relazioni diverse potrebbero aver fatto altre scelte lui parla di questo retaggio della libertà che percorre tutta la società umana che ogni tanto si vede lui dice ci sono degli sprazzi all'interno della storia umana dove si vede che le società umane avrebbero potuto fare altre scelte e non sono state fatte parla ad esempio dell'esperienza della comune di Parigi per dire con esperienza brevissima ma in cui secondo lui si è visto un altro modo possibile di organizzarsi parlo del 1871 no? quando a Parigi il popolo per due mesi neanche prende in mano insomma la gestione della città ecco lui dice quello è un esempio di come si poteva fare ma non è stato fatto non è stato fatto perché è stato represso nel sangue non c'è stato modo di allargare l'esperienza ma ci sono degli sprazzi e lui su questi sprazzi insiste su queste possibilità altre per cui sì lo stile individuale è importante ma non è sufficiente ecco gli altri concetti erano la sensibilità che appunto è il discorso che facevo prima no? su una sensibilità diversa come base necessaria per la trasformazione sociale poi c'è la visione del mondo però la visione del mondo ci siamo ma sì una riflessione me l'hai anticipata un po' tu nel senso che consideriamo il fatto che la base del pensiero di Bucin c'è una una profonda fiducia nel genere umano se no non non direbbe forse tutte queste cose quindi anche qui c'è un passaggio in cui proprio sottolinea il fatto che la rivoluzione si appoggia sulla speranza che l'essere umano sia in grado di generare delle nuove consapevolezze riporto la cosa un po' al al dentro nel senso che è la continuazione di quanto letto parla anche di una di una rivoluzione interiore se possiamo chiamarla così e rivoluzionario mentre cerca di cambiare il mondo deve necessariamente anche cambiare se stesso infatti senza questa trasformazione in intoriere omine che porti ogni essere umano alla consapevolezza della necessità di un mutamento sociale è impossibile ipotizzare la nascita e lo sviluppo di una società ecologica al di là di quello che è appena detto che non possiamo ritenerci responsabili individualmente però riporta più volte la necessità di un cambiamento individuale personale quindi io un po' da la domanda che mi sono fatta dal mio percorso è se lui aveva una pratica quotidiana per o comunque se appunto nella pratica cosa poteva attivare un processo di cambiamento individuale cioè adesso io diciamo arrivando un po' dalle arti performative mi chiedevo cosa fare però insomma appunto lo scontro era un po' l'imprendibilità di certe certe teorie no e quindi no non credo che avesse una pratica non lo so però certo l'interrogarsi ognuna ognuno sulle proprie relazioni sulla perché è ovvio che vivendo in una società come la nostra che comunque è una società verticale e su questo penso che nessuno possa avere da dire nel senso è ovvio che siamo in una società impostata in un modo gerarchico è ovvio che queste strutture le abbiamo interiorizzate nel senso ci siamo cresciuti ci siamo ci abbiamo vissuto ci viviamo quotidianamente ci troviamo a confrontarci quotidianamente e ce l'abbiamo dentro così come ci abbiamo dentro una logica patriarcale ci sono delle cose che purtroppo abbiamo introiettato il lavoro di rendersene conto secondo me è già tanto ed è difficile ma non c'è un modo per farlo nel senso non è che c'è una prassi o una ognuno poi chiaramente deve trovare il suo modo e deve sapere che le contraddizioni ci sono ognuno di noi ha le sue contraddizioni Bukci non vuole fare il guru della situazione passiamolo così non è quello l'intento l'intento è quello secondo me l'aspetto importante del suo pensiero quello che proprio a me fondamentalmente interessa che ormai un po' è passato per fortuna cioè sta arrivando anche al movimento ecologista e questa connessione forte tra la questione sociale e la situazione sociale e la questione ecologico ambientale sono due aspetti che dobbiamo considerare che adesso forse a qualcuno possono già sembrare più vicini ma che una volta venivano considerati completamente separati o mi occupo di giustizia sociale o io mi interesso di questioni ambientali la connessione tra questi due aspetti secondo me è la cosa che più ci deve interessare del pensiero di Bukci oggi ed è una delle cose secondo me più attuali e più importanti da cogliere la necessità di affrontare questi due aspetti insieme che è impossibile risolverne uno senza risolvere l'altro e sono due aspetti grossi due situazioni pesanti che dobbiamo affrontare e non possiamo affrontarle separatamente questo qui io credo che sia poi l'aspetto fondamentale della sua riflessione No, volevo giusto agganciarmi a quello che stavi dicendo tu riportando anche quella che è stata l'esperienza di creazione di questo dibattito nel senso che comunque è stata proprio una lettura condivisa tra di noi del tuo testo quindi sicuramente è stata una bella occasione approfondirlo insieme ad altre persone e ricordo in base anche a quello che stava dicendo Anna adesso che una domanda che ci eravamo posta erano anche quali sono state le filosofie di riferimento da cui ha tratto ispirazione se ci sono state appunto parlando della rivoluzione interiore e ci ha un po' portato in mondi un po' più orientali dove ci sono delle filosofie dove si guarda un po' più all'aspetto anche interiore ci siamo chiesti se Bucinink poteva aver avuto un'influenza da questo punto di vista no non credo nel senso la sua formazione iniziale è proprio marxista nel senso lui si forma proprio con i giovani del partito comunista degli Stati Uniti per cui ha un'impostazione molto materialista si allontana poi appunto dal partito comunista per le vicende della rivoluzione spagnola per la posizione che il partito comunista assume durante la rivoluzione spagnola da lì si allontana e poi insomma viene in realtà viene allontanato dicono per deviazioni trotschiste anarchiche e alla fine si ritrova nel movimento anarchico e i suoi riferimenti sono quelli per cui non c'è nulla di filosofia orientale sicuramente c'è una grande conoscenza dei classici dell'anarchismo così come del pensiero di Marx fa continuamente riferimento a questi entrambi questi filoni di pensiero in realtà anche Marx appunto pur allontanandosi dal partito comunista però mantiene un peso nella sua riflessione su una serie di concetti che mantiene appunto dal marxismo però è una riflessione molto concreta e non spirituale sicuramente non religiosa non c'è nulla di questo nel suo pensiero no questa trasformazione interna più che una trasformazione è proprio un riconoscimento del fatto che le strutture verticali, gerarchiche che una mentalità di dominio che la logica di dominio non è solo quella dell'altro ma è anche quella che abbiamo noi che abbiamo introiettato e che esercitiamo magari anche senza volerlo sull'altro sull'altra ma proprio a livello cioè come come struttura mentale ecco non come sì e poi anche questa unione che lui fa tra mente e corpo questa necessità dice di di rompere anche la gerarchia tra la mente e il corpo e anche lì non c'è niente di spirituale è proprio una una necessità di rendersi conto che sono due aspetti quello psicologico e quello fisico e fondamentali che devono avere lo stesso a pari livello insomma lo stesso riconoscimento c'è ne avremmo ancora però preferiremmo rimbalzare a voi sì domande o riflessioni se ci sono se ci sono se lo passo se vuoi la dire preferisci grazie bellissima la presentazione e anche come è stata organizzata ora grazie veramente bello e avevo qualche curiosità una era su fatto diciamo da quella più marginale forse nel discorso che si stava facendo però ha recitato la figura di Janet Leel e ho visto che è evidente anche ancora abbastanza giovane volevo chiederti ci avevi approfondito anche la sua figura quindi ci vuole cosa di più e e poi volevo una curiosità cioè se Guccino era vegetariano o se ha collegato questo tema nei suoi lavori oltre che nella sua distenza e e l'ultima come hai capito come sicuramente molti avranno detto comunque questa città come tante altre ma è abbastanza sotto attacco da vari punti di vista e sono stati citati i FAS altri temi legati insomma a criticità ambientali della città e per esempio una è quella del TAV che comunque ha anche degli impatti ecosociali molto importanti se pensiamo agli strofi la cementificazione l'inquinamento e potremmo andare avanti a lungo e chiesti se potremmo fare un piccolo esercito di immaginazione e si può raccontare come per esempio si sarebbe comportato Guccino vivendo nella vicenza di oggi come avrebbe affrontato secondo te per esempio questa questione del TAV allora comincio a risponderti alla domanda più facile che è quella sulla Janet Bill non l'ho approfondita molto è vivente è molto attiva recentemente ho visto che che ha scritto riguardo il Rojawa che è stata per un periodo lungo lì e quindi ha raccontato la sua esperienza e non c'è nulla di tradotto in italiano di suo purtroppo però ha scritto diversi testi significativi ma non ho non sono in grado ecco di fare un quadro completo della sua riflessione non me ne sono occupata se non nel periodo appunto in cui avevano questo scambio anche intellettuale con Marrai ovviamente però mantiene una posizione rimane legata all'ecologia sociale ma appunto più interessata agli aspetti ecofeministi e quindi la sua riflessione si è un po' spostata più che altro su questioni ecofeministe però si trovano diversi materiali in rete se vuoi facilmente consultabili tra cui appunto il suo ultimo libro che ha scritto sulla questione del vegetarianesimo Nobucci non era vegetariano e una delle critiche che giustamente credo gli vengono fatte al suo pensiero è che non si è interrogato molto sulla questione dell'antispecismo nel senso riconosce che l'antispecismo è un'altra delle forme di gerarchia di oppressione ma non ci si è soffermato io penso anche per una questione di anni in cui lui ha vissuto nel senso voglio sperare che se fosse vissuto ancora oggi avrebbe scritto di più su questo aspetto perché credo che la riflessione sull'antispecismo sia andata molto avanti negli ultimi anni sull'antispecismo politico quindi su un discorso politico legato alle questioni animali ma lui non se ne è interessato insomma più che denunciarlo insieme alle varie forme di oppressione credo però che avendo una visione quella che oggi si chiama intersezionale di collegamento è impensabile non collegare anche la questione antispecista però lui non l'ha fatto in modo esplicito ed è probabilmente uno dei suoi punti di debolezza ma io credo appunto perché i suoi testi più importanti finiscono negli anni 90 80 90 e perché adesso non voglio giustificarlo però avviene da una generazione cresciuta negli anni 20 in una situazione di fragilità economica e via dicendo che non l'ha portato insomma a fare una riflessione di questo tipo su cosa farebbe Bucci se vivesse qua non ho idea è difficilissimo tra l'altro siete veramente in un territorio denso sicuramente un aspetto che non abbiamo toccato molto oggi è quello del municipalismo libertario che è una prassi che lui sosteneva molto ovvero la creazione di assemblee popolari locali che prendessero la parola sul territorio su quello che succede in quel territorio non per forza sostituendosi al potere statale dove non possibile idealmente sì ma anche lui è consapevole delle difficoltà e quindi dell'impossibilità di farlo ma la creazione appunto di assemblee popolari che a livello orizzontale potessero esprimersi e prendere posizione condivisa su quelle che sono le questioni del territorio è un'esperienza che è stata ripresa in varie località è stata celebre ad esempio in Italia l'esperienza di Spezzano Albanese dove gli abitanti hanno creato una assemblea popolare che per un grande periodo ha avuto un peso notevole insomma da riuscire a influenzare anche il consiglio comunale per quanto riusciva insomma a coinvolgere la popolazione locale c'è un libro carino che vi consiglio che è uscito per la Fandango un paio d'anni fa che si chiama Quelli che spezzano o quelli che spezzano dove racconta proprio tutta la loro esperienza di municipalismo libertario legata un po' anche a quelle che erano le teorie di Buccin appunto quindi alla creazione di questa assemblea popolare che si riunisce periodicamente per affrontare le questioni locali e territoriali insomma della comunità in modo condiviso in modo collettivo in modo orizzontale con dei delegati ma delegati con mandatore vocabile e quindi con un controllo continuo dell'assemblea su poi le persone che vanno a confrontarsi con il consiglio comunale piuttosto che con le varie istituzioni locali questa è probabilmente la strada che potrebbe suggerirvi ma è chiaramente un processo molto difficile e complicato però il municipalismo libertario è un aspetto importante nella sua teorizzazione di una società altra quindi la creazione di assemblee popolari locali possibilmente che abbiano pieno potere decisionale e che possano poi appunto porsi in rete con altre assemblee locali dei territori circostanti o meno in questo senso appunto parla anche di confederalismo che poi l'idea che è stata presa appunto ripresa nel nel Kurdistan negli ultimi anni e parla anche di decentralizzazione ovvero della necessità di di creare comunità piccole perché chiaramente se devono essere gestite a livello di assemblea a livello di collettività è più facile nel piccolo però questa decentralizzazione non vuol dire allora ci trasferiamo tutti nelle campagne facendo delle piccole comunità ma parla di una decentralizzazione non territoriale non fisica ma una decentralizzazione possiamo dire istituzionale politica nel senso di ragionare magari per quartieri di ragionare per zone nei casi di collettività troppo ampie ecco per cui di creare dei piccoli gruppi in modo che si possa creare veramente una rete anche delle conoscenze reciproche che è una condivisione più più comune quando mi ho visto sul libro di Buching questo questione del municipalismo beh un fattore incoraggiante per chi insomma molti qui sicuramente lo avranno presente un fattore incoraggiante che questo concetto si richiama molto il pensiero di alberto magnaghi che in chiave urbanistica politico territoriale ha ripreso questioni molto simili bioregione il municipalismo la rete di villaggi la rete di città e anche in dimensione urbana quindi come giustamente dicevi tu non non coincidente quel fatto quel fatto di un ruralismo obbligato ma anche proprio di una applicazione anche urbana di questo tipo di approcci è incoraggiante perché dopo tanti anni come dire un concetto ricompare in maniera molto simile viene ripreso da una da un pensiero del pensiero cosiddetto territorialista che comunque è uno dei pensieri più importanti della nostra urbanistica moderna e dell'approccio territoriale quindi se vogliamo trovare anche dei momenti di collegamento si incoraggiante come dire positivo in questo ce lo vedo ma io se vuoi aggiungere qualcosa noi un po' siamo stati toccati un po' tanti per chiudere poi c'è qualcun altro mi fa piacere sì volentieri voglio chiedere secondo me ti ho fatto molto il tema delle relazioni delle personali di Marcia proprio segnali e da lui appunto da anarchico non so che l'anarchia relazionale è un'altra c'è nata come pensieri per dire 10 forse magari non ha potuto concludere questa cosa mi stavo chiedendo se magari lui aveva anche appunto le sue relazioni cercato di decostituire il discorso di appunto gerarchie anche involuntariamente magari corre ma era in cima la famiglia era in cima e poi scornendo e il vostro aveva scritto in queste cose magari a tutto il mondo e no un po' appunto perché sempre per una questione di di epoca di tempo anche perché lui è morto nel 2006 ma gli ultimi 15 anni era non stava bene insomma per cui si era un po' ritirato a vita personale per questioni di salute aveva difficoltà a muoversi e via dicendo e quindi no nello specifico e non si sofferma molto su su come relazionarsi a livello individuale all'interno delle proprie relazioni dei propri rapporti e un po' sempre per per l'idea io credo che poi ognuna deve trovare quella che è la strada che gli si addice perché non può essercene una che va bene per tutti ognuno sa come sta bene con chi sta bene in che modo però appunto c'è sempre questo richiamo alla necessità di relazioni non di sfruttamento non di possesso non di oppressione questo sì non va oltre questo ecco quello che volevo dire che spesso il pensiero il pensiero di Bookchin viene definito come utopico e quindi bello ma è utopico e quindi vabbè l'ho letto ma finisce lì ed è una cosa che ricorre sempre però un aspetto importante invece proprio io credo anche il recupero del pensiero utopico e lo diceva anche lui del pensiero immaginifico cioè del continuare a pensare è recuperare questa idea che c'è un po' passata negli ultimi anni che si può vivere in un modo diverso non è una osare pensare di vivere in un modo diverso ma è una cosa che dobbiamo anche un po' recuperare dobbiamo iniziare anche a ripensarci anche noi perché sicuramente non siamo nel migliore dei mondi possibili e quindi anche iniziare a immaginare solo perché l'immaginazione poi mette in moto pratiche mette in moto tante cose quindi iniziare anche a immaginare che si può vivere in modo diverso è un modo anche di riattivarsi di riattivare il pensiero e di riattivare le pratiche per cui forse un pensiero utopico si ma l'utopia può anche servire a muoversi si diceva l'utopia a cosa serve serve a camminare cioè serve a dare anche un'orizzontalità un senso una visione di dove si potrebbe andare di dove vorremmo andare per cui non è un aspetto negativo come per forza adesso siamo un po' anche abituati a pensare no? l'utopia è una cosa negativa che non ci serve a niente non ci serve perché non serve al capitale non serve allo Stato non serve non ci si guadagna sull'utopia però ci riattiva ecco quindi è una penso che sia un utile in questo senso che ci sia una cosa da recuperare grazie 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 Selva e forse giusto una curiosità adesso io rispetto a te personalmente mi interessa sapere su cosa stai lavorando attualmente se stai proseguendo la ricerca con altri autori allora io non faccio ricerca per lavoro io insegno per lavoro nelle scuole superiori però mi piace lo stesso continuo sempre a fare ricerca e sto lavorando soprattutto su autrici anarcho-feministe in questo momento sto curando l'autobiografia di Emma Goldman che è proprio in questo periodo e che è questa anarchica russa dell'ottocento che ha avuto una vita incredibile e vabbè adesso andrei fuori tema però in questo momento sto lavorando su questo grazie e no grazie a me che insomma ci siamo sostenuti e speriamo che cioè ci piacerebbe in qualche modo che possa essere appunto un input per continuare le conversazioni ecco grazie grazie